Per noi il sabato è una vittoria, se vinciamo, è una vittoria importante perché ci dobbiamo noi salvare questo anno, quindi giochiamo contro adesso l'ultima squadra, però loro vengono da tre partite consecutive, che hanno, cioè l'ultima hanno sbagliato solo, terza ultima hanno sbagliato solo il rigore al 95esimo, quindi vale come un pareggio. Poi per me c'è un esordio in Lega Pro, in tranne professionisti, perché due partite in Coppa d'Italia non valgono come un esordio per me. Vabbè, io mi aspettavo sempre a ritrovarmi con la squadra, a essere titolare, poi Tommy ha iniziato, ha iniziato a giocare bene, quindi è normale che giocava sempre lui. Io sono stato tranquillo, mi allenavo sempre bene, quindi ci pensavo che il momento mio arriverà. Ma ho arrivato, quindi mi devo allenare bene adesso, questa settimana, e mi devo riprendere il posto mio, che giochiamo io e Tommy insieme. Questa partita per me può cambiare tanto, perché ormai non gioco da tre mesi, e se riprendo posto posso giocare fino al campionato, se no se non gioco bene è rientrato mai di nuovo. Quindi questa partita per me vale come oro. È difficile, perché tutte squadre dal basso hanno vinto, quindi questa settimana dobbiamo vincere pure per noi, per forza. Ci vogliamo preparare bene, poi che cosa ci dà il campo succede, però noi daremo tutto in questa partita. È un momento brutto perché per adesso, se non sbaglio, siamo tranne tre e quattro punti da ultimi in classifica, quindi è un momento brutto, però se riprendiamo bene possiamo fare tutto, e anche giocare prima in classifica. Quindi ci pensiamo solo per vincere il sabato.